Raccoglieva gli ordini per telefono, poi passeggiava per il quartiere incontrando i clienti e vendendo loro la droga, soprattutto cocaina di alta qualità, ma anche hashish. Questo secondo le indagini dei carabinieri che l'hanno arrestato. Così facendo non destava sospetti tra i condomini, ma sono stati invece gli abitanti del quartiere Sant'Anna di Piove di Sacco a segnalare i suoi movimenti sospetti. I militari hanno così indagato per mesi, annotato le targhi di centinaia di clienti, finché il Tribunale di Padova ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per lui, un marocchino di 51 anni già noto alle forze dell'ordine e attualmente sottoposto all'obbligo di rimanere in casa alla sera. Ci aveva le ordinazioni per telefono, chiaramente ognuno prenotava prima quella che poteva essere l'acquisto che interessava, dopodiché si recava presso il quartiere Sant'Anna e lui raggiungeva i vari acquirenti a piedi tra le vie del quartiere, talvolta anche in zone legate a quelle che sono frequentazioni di minori, quindi patronato, il campo sportivo, il piazzale intestante della chiesa, le scuole. I carabinieri hanno ricostruito un giro d'affari di circa 10 cessioni di droga al giorno per un totale di 20-30 mila euro al mese. Tra i clienti di tutte le età e classi sociali, molti hanno confermato di aver acquistato droga dall'indagato al prezzo di 80-100 euro al grammo per la cocaina e 5-10 euro al grammo per l'ascisce. Ringraziamo la cittadinanza dell'aiuto che ha portato per questa indagine perché sono stati gli stessi cittadini di Sant'Anna a segnalare questi anomali movimenti e che hanno dato i risultati sperati. Nel corso della perquisizione dell'abitazione del nord africano sono stati trovati anche 15 grammi di cocaina già suddivisi in 17 dosi pronte per essere vendute. Ringraziamo il nord africano